Ultime ore di gelo polare, ma non sarà finita qui. Giovedì arriverà la neve. In Filuli Venezia Giulia, almeno a Trieste, non spira più la violenta bora dei giorni scorsi, quando ci sono state raffiche fino a 130 km orari. Temperature ancora molto fredde, meno 5 gradi sulla costa, meno 4 in pianura e in montagna meno 20 gradi. Vicino al mare, in laguna, a grado meno 3 la colonina di Mercurio. Per la giornata è previsto un innalzamento delle temperature e potrebbe tornare anche a soffiare la bora. È stata una notte di interventi per i vigili del fuoco, con 5 squadre in questi giorni hanno eseguito oltre 300 interventi in città, nessuno dei quali si è rivelato grave. È stata la prima notte tranquilla, dopo una settimana circa, anche per loro. A Venezia, invece, è crollato un altro traliccio a poco più di 24 ore dall'incidente sul Ponte della Libertà. Una torre faro dell'altezza di 20-30 metri è caduta al suolo nel parcheggio all'interno del porto nuovo a Fusina, vicino a una banchina in cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura è crollata su quattro auto, fortunatamente tutte vuote, una delle quali è stata colpita in pieno. Per quanto riguarda il gelo, le temperature sono polari anche in Veneto, con meno 34,4 gradi raggiunti a Dolina Campoluzzo, minime tutte sotto lo zero anche nei capoluoghi, con il record a Vicenza di meno 7,5 gradi. Il bollettino dell'ARPA mostra una situazione di gelo esteso a tutta la regione, a partire dalla Marmolada con meno 29,9 e proseguendo con Piana di Marcesine, meno 25, Passo Pordoi, meno 22,9, Passo Cimabanche, meno 19, Valvisdende, meno 15 e Cansiglio, meno 14,8. Per quanto riguarda le città, Vicenza ha appunto raggiunto il record, seguita da Verona con meno 6, Belluno, meno 5,4, Rovigo, meno 5,2, Padora e Treviso, entrambi con meno 4,2 e Venezia con meno 3,3 gradi. Un flusso di aria fredda dalla Russia che comunque si sta attenuando, domani dovrebbe iniziare già l'inversione di tendenza e però potrebbe appunto arrivare la neve giovedì sia in pianura sia in montagna, venerdì però dovrebbe trasformarsi in pioggia. E tornata alla normalità anche la situazione nell'area delle Dolomiti Friulane, dopo la scossa di terremoto di 3,9 seguita da uno sciame sismico, nella notte e nella giornata non si sono registrate ulteriori scosse, la situazione è costantemente monitorata dalla protezione civile regionale.